Presentati i candidati dei giovani democratici nei centri in cui l'8 e il 9 giugno si voterà, in questo caso Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Occorrono nuove idee e lungimiranza, secondo Saverio Gileno, segretario regionale dei giovani democratici. Oggi abbiamo presentato le candidature dei giovani democratici per queste elezioni amministrative a Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Sono candidature per cambiare le nostre città, perché noi pensiamo che nelle nostre città abbiamo bisogno di idee nuove, di idee forti, di immaginare il futuro, di immaginare i prossimi 20, 30, 40 anni. E quindi c'è bisogno di persone, ragazze e ragazzi, che si impegnano da anni nell'attivismo giovanile, nei giovani democratici, nella rappresentanza studentesca, possano appunto rappresentarli, possano portare queste idee nelle amministrazioni comunali. Ed è importante dire che queste non sono solo candidature generazionali, sicuramente parliamo delle questioni giovanili, ma sono appunto candidature per immaginare il futuro delle nostre città e pensiamo che ce ne sia molto bisogno. Con delle città in cui non ci sia più il bisogno di dover andare via, in cui si investa sul lavoro sicuro e di qualità, perché i comuni possono fare molto anche sotto questo aspetto. Delle città in cui ci sia sicurezza per le ragazze e per le donne, in cui il trasporto pubblico sia più efficiente, ci sia anche di notte in cui la cultura e il turismo non siano solo eventi spot, ma ci sia un lavoro duraturo e di valorizzazione delle realtà locali e delle città in cui il diritto allo studio, quindi il diritto al futuro, venga garantito e agevolato.